Ieri mattina il prefetto di Caltanissetta ha presieduto un'ulteriore riunione tecnica per un aggiornamento sulla crisi idrica e per rinvenire una soluzione congiunta ed efficace per il rifornimento delle aziende zootecniche. In particolare alla presenza del presidente del Lati Idrico, del sindaco di Caltanissetta, del vice sindaco di San Cataldo, del direttore di Caltacqua, del referente di Sicilia Acqua e del dirigente del Consorzio di Bonifica 4, si è convenuto di potenziare l'attuale sistema di distribuzione della rete del Consorzio, al fine di garantire una distribuzione equa e maggiormente cadenzata per soddisfare i fabbisogni delle aziende servite dal Consorzio. Rimane in campo l'azione sinergica della forestale di Caltacqua coordinata dal Lati e già praticata nelle ultime settimane che attraverso il servizio sostitutivo con autobotti garantirà la distribuzione idrica alle aziende che insistono sul territorio di Marianopoli e Mussomeli e per le altre non servite dalla rete del Consorzio già comunicate dai sindaci del territorio provinciale.